Carissime web spettatrici, carissimi web spettatori, buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenute e benvenuti, siete collegati in diretta con Salvo Mandarà, in questo momento mi trovo a Vigevano. Oggi è domenica ed è domenica 17 di marzo del 2013, essendo domenica mi sono alzato come capita molto spesso con comodo e quindi eccomi qui a fare il mi scappa la diretta in un'ora tarda, in un'ora pomeridiana. È ovvio che l'argomento di questo mi scappa ieri è successa una cosa importante, uno dei primi atti importanti dei parlamentari appena eletti, si è votato alla Camera per eleggere il Presidente della Camera e si è votato al Senato per eleggere il Presidente del Senato. Ovviamente la scelta per i parlamentari alla Camera era abbastanza semplice, perché rimanere coerenti con il mandato ricevuto con l'elezione per il Movimento 5 Stelle è abbastanza semplice, perché il PD e il gruppo collegato al PD ha la maggioranza assoluta e quindi è ovvio che votare tutti insieme compatti Roberto Fico è stato semplice alla Camera. Discorso completamente diverso per il Senato, perché al Senato come sapete abbiamo un gruppo di 54 senatori e anche gli altri gruppi sono in numero praticamente confrontabile, poco più grande, di poche unità rispetto al nostro, tranne il gruppo di Monti che invece è un gruppo più piccolo. Quindi è ovvio che è stato tutto più complicato, è stata una prima prova molto complicata da sostenere da parte dei nostri senatori, dei cittadini 5 stelle impegnati al Senato. Ho fatto poco fa una piacevole e lunga chiacchierata con una carissima amica che è anche una senatrice, si chiama Sara Paglini, eletta in Toscana. Sara mi ha raccontato un po', soprattutto mi ha testimoniato il suo umore. Ieri è stata una giornata veramente molto molto difficile dal punto di vista delle emozioni, ha provato delle emozioni grandissime, ha visto della gente piangere, ci sono alcuni senatori che hanno dichiarato di aver avuto delle perdite a causa della mafia e che quindi erano veramente combattuti. Io non voglio discutere sulla scelta di qualcuno di votare Grasso piuttosto che Schifani o piuttosto che, come sarebbe stato giusto, Schieda Bianca. Posso capire, qualcuno che magari ha avuto un amico o un parente ucciso dalla mafia, andare a votare per un collega senatore che per anni si è occupato di difendere alcuni esponenti della mafia, sicuramente sarebbe stata una scelta difficile. Votare Schieda Bianca per loro poteva significare arrivare all'elezione di Schifani e quindi qualcuno di loro ha deciso di votare Grasso. Quindi capisco le motivazioni che possano aver spinto questi pochi senatori, perché poi capire il numero esatto non è possibile, perché è ovvio che anche all'interno dei Montiani ci sono state due decisioni diverse. Alcuni hanno votato Schieda Bianca, alcuni hanno votato Grasso. Quindi determinare il numero esatto di coloro che all'interno del Movimento 5 Stelle hanno votato Grasso è impossibile. Comunque, che siano stati uno, due o dieci non fa alcuna differenza, c'è stato qualcuno che l'ha fatto. Sicuramente non possiamo dire di loro che sono dei traditori. Ecco qualcuno mi scrive Scorpion, dice ciao salvo condivido il pensiero di Vito Crivi, nessun Giuda tra di noi. Io sono d'accordo, non si sta parlando qui di Giuda o di traditori, si sta parlando semplicemente di persone che non hanno rispettato le consegne. Cioè nel momento in cui io decido di candidarmi per un partito o per un movimento, come è il Movimento 5 Stelle, ne accetto le regole. Nel momento in cui firmo una regola di comportamento, quella regola io la accetto. Quindi posso anche non condividere la decisione della maggioranza, ma alla fine nel momento in cui accetto una regola che dice che le decisioni vengono prese a maggioranza, anche se in 54 ci sono la maggioranza più uno che vuole la cosa che mi vede contrario, io alla fine devo votare quello che ha determinato la maggioranza. Quindi non voglio assolutamente parlare e non parlo di traditori o di Giuda, parlo di persone che hanno commesso un errore. Hanno commesso un errore perché non si sono attenuti a delle regole che loro nel momento in cui si sono candidati hanno sottoscritto. Punto e basta. A questo punto io direi, ho visto che su Facebook qualcuno l'ha già fatto, c'è stato un senatore che ha già dichiarato pubblicamente di aver votato grasso e che è pronto lunedì e martedì a dare le dimissioni. Io credo che tutti gli altri dovrebbero fare la stessa cosa e dovrebbero discutere tutti insieme appunto nei prossimi giorni, quindi tra domani e martedì e dovrebbero decidere cosa fare. Io se fossi uno di loro deciderei di accettare le dimissioni da parte di coloro che le presentano perché è molto semplice. Ho accettato delle regole, se non le rispetto me ne vado. Qualunque sia la causa, la ragione per cui non sono in grado di rispettarle. Quindi io non mi aspetto espulsioni, mi dispiace Luigi ma non sono d'accordo con te, visto che lo scrivi, io aspetto espulsioni. Io assolutamente non mi aspetto nessuna espulsione, mi aspetto semplicemente che coraggiosamente coloro che hanno deciso di votare grasso lo dichiarino pubblicamente come qualcuno ha già fatto e si rimettono alla decisione della maggioranza. Se la maggioranza decide oppure potrebbero direttamente dare le dimissioni senza neanche aspettare che la maggioranza decida. Comunque insomma questo è quello che bisogna fare. Credo che sia un atto giusto e di coerenza. Io farei così, se io fossi stato eletto senatore e se mi fossi sentito di votare grasso andando contro al mandato che avevo sottoscritto, a quel punto a mente fredda adesso presenterei le mie dimissioni. Basta, non ci sono altre scelte. Per quanto riguarda Inciuci invece assolutamente non credo proprio. Credo che queste persone che hanno votato grasso anche nel caso in cui dovessero rimanere, non dovessero dare le dimissioni, assolutamente non credo, non li conosco, non so neanche chi siano, ma non credo proprio che voterebbero una fiducia a un governo sostenuto da politici. Quindi non credo che arriverebbero a tanto. Ovviamente non sapendo di chi si tratta e non conoscendoli, la mia è solo una speranza naturalmente. Sicuramente ieri è stata una pagina molto difficile perché è stata la prima prova a cui sono stati sottoposti un certo numero di persone che non si conoscevano. Quindi da quello che ho capito c'è stata una riunione molto lunga dove però non si è mai arrivati ad avere la possibilità di votare in modo freddo e deciso su quale doveva essere la scelta finale. Alla fine il tempo poi era finito, si è votato in modo rapido, troppo veloce e evidentemente non si è capito bene il significato di quello che si stava facendo. Quindi sicuramente si tratta di un errore, però anche gli errori vanno analizzati e chi li commette deve prendere atto di aver commesso un errore e quindi eventualmente prendere una decisione anche drastica. Bene, questo era quello che ci tenevo a dirvi, quello, anzi ci qua non ci sta, questo è quello che tenevo a dirvi, ecco qualcuno scrive avessero fatto lo streaming ora sapremmo che avevano deciso, ma questo non è detto, questo non è detto. Comunque nel caso di dimissioni come verrebbero rimpiazzati? Beh molto semplice, nel caso di dimissioni immagino che verrebbero rimpiazzati dai primi non eletti, se si dimettono 5 senatori verrebbero rimpiazzati dai primi 5 che non sono stati eletti, immagino che sia così, magari mi sbaglio. Va bene, questo è quello che penso, che cos'altro dire? Sfrutto ancora questi pochi minuti che rimangono per arrivare ai 15 per parlare di una cosa molto più leggera, oggi sulla 7 dopo il Tg delle 13 hanno fatto un servizio su una trasmissione che si chiama Tg Cronache, hanno fatto un servizio in cui hanno parlato della cosa, hanno fatto vedere appunto alcuni spezzoni di trasmissioni con Matteo Ponzano e poi hanno anche parlato del sogno della cosa, cioè che questo contenitore diventi sempre più pieno di contenuti che vengono appunto fatti anche da attivisti che non sono all'interno della cosa e fra questi hanno citato anche Salvo 5.0 Channel, hanno raccontato, hanno sintetizzato molto velocemente anche la mia storia, il fatto che ho cominciato a fare le dirette in Sicilia e poi mi sono ritrovato sui 77 parchi dello Tsunami Tour. Quindi niente, per me è stato un bel servizio perché hanno documentato le cose in modo obiettivo, non hanno assolutamente aggiunto o tolto cose importanti, non hanno travisato la realtà, quindi plaudo alla giornalista Simona Buonomano della 7 che ha firmato il servizio perché secondo me l'ha fatto in modo onesto, come è giusto che si comporti un giornalista. Quindi ancora una volta ecco ci sono le eccezioni, come già è successo con altri articoli, adesso non voglio elencarli tutti, ci sono stati comunque un po' di articoli fatti bene su varie testate e questo dimostra per fortuna che la stampa non è tutta da buttare via. Speriamo che a mano a mano che andiamo avanti col tempo, siano sempre di più i giornalisti seri e sempre di meno i giornalisti meno seri, diciamo, che per me non sono affatto venduti, ma come ho scritto parlando di Santoro, parlando di P.G. Battista e di Floris, sono intellettualmente schiavi. Va bene, allora io vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro buona fine domenica, ci vediamo domani per il Mi Scappa la diretta del lunedì, che sarà molto probabilmente di mattina e grazie ancora a tutti. Un abbraccio, a presto, a domani. Ciao ciao, grazie.